Siamo pronti per accogliervi e vi aspettiamo assieme ai vostri amici 200 e oltre 200 piazze del Veneto, vi aspettiamo sulle oltre 200 piazze del nostro territorio in occasione delle... Sono Bruna Poletto, volontaria all'ospedale, volontaria ai, niente, dai, vi aspettiamo tutti quanti, basta, non so più cosa dire adesso. Abbiamo testimonianze, no, non è andata, se della città, no, vabbè, basta, no, della città, della provincia di Veneto. Era finito il minuto, in oltre 200 piazze della provincia di Venezia. Vi lancio un messaggio che voglio, no, sotto le malattie e nel percorso la vita ve li mette dinanzi, ma perché? Il del Veneto orientale, in primis per talone, volontario a... È arrivato il momento dei saluti, però diamo, salutiamo in modo speciale i nostri ascoltatori, come volete. Benissimo, così. Facendo un segno di vittoria, anche un saltino. Facciamo un saltino, facciamo un saltino, ma ci abbiamo un, due, tre, vai! Quindi abbiamo salutato anche i nostri ascoltatori, io vi ringrazio per essere stati qui ai nostri microfoni, ma soprattutto per aver trasmesso un messaggio forte, mi raccomando, non smettete, non smettete. Con il vostro aiuto, anche con l'aiuto di Radio Venezia, naturalmente. E con l'aiuto di tutti quelli che ci vogliono aiutare. Assolutamente, poi avete la grinta di Giovanni che si sente. E anche quella di Cristiano. Di tutti quanti, insieme si è più forte. Siamo più di 500 volontari in provincia di Venezia. Sì, a cui va il più grande ringraziamento, perché tante volte si trovano nelle piazze, magari anche al freddo, e io spesso dico, ma chi glielo fa fare, bisogna stare al freddo lì? Eppure hanno la grinta, la forza di restare lì per noi, per Ail, per i malati e per le famiglie che hanno bisogno. Quindi un applauso e un ringraziamento anche a loro.